Anche Napoli avrà la sua rete di wifi pubblico gratuito, un servizio per i cittadini e per i turisti che partirà sabato prossimo nella zona della villa comunale di Castel del Lovo, per estendersi nelle settimane successive a Piazza Municipio e al Porto, all'area di Piazza Garibaldi e infine entro l'estate al PAN e a tutte le biblioteche comunali. Nasce da una scommessa, quella di riuscire a realizzare una rete wifi gratuita per i cittadini e gratuita anche per il Comune di Napoli che non ci metterà neanche un euro. Si sono presentate una serie di piccole e medie imprese del napoletano, della provincia e di Napoli che anzi si volevano proporre e scommettere su questa iniziativa. Dal momento dell'ok alla realizzazione in circa due mesi siamo pronti sabato sul lungomare liberato e poi abbiamo interesse ad allargare il progetto anche ad altre parti della città proprio perché abbiamo ritenuto che anche internet, anche il wifi sia un bene comune che deve essere fruibile a tutti i cittadini ma anche a coloro che vengono in questa città. Il meccanismo progettato dalla Direzione Generale del Comune consentirà di assicurare il servizio senza alcuna spesa da parte dell'amministrazione. L'appalto, vinto dalla società Wifonet di Giuliano, si sostiene attraverso la sponsorizzazione in diretta dei banner pubblicitari. Un modello originale e creativo di rapporto pubblico-privato che permetterà di estendere il servizio progressivamente ad altre aree della città sempre a costo zero. Siamo già in fase sperimentale attuando già con i beni museali e quindi delle situazioni di geolocalizzazione e realtà aumentata. Quale miglior piazza se quella di Napoli non dare questa sensazione di alcuni progetti che abbiamo già in mente e poi piano piano li faremo conoscere. Ogni utente avrà a disposizione due ore al giorno di connessione gratuita. Il servizio consentirà anche di avere informazioni sulla città, sui monumenti e sul trasporto pubblico. Wi-Fi libero a costo zero, quindi non si è speso un euro, tutto con personale interno all'amministrazione. È importante, cominciamo su quattro lotti e poi ci estenderemo funicolari, metropolitana e poi man mano in tutta la città. È importante perché è un mezzo molto utilizzato soprattutto dai giovani, Napoli è la città dei giovani, un passo in avanti in questa direzione. Dato l'entusiasmo delle aziende e il fatto che la rete stia venendo particolarmente bene, credo che subito dopo l'amministrazione vorrà allargare la platea, allargare l'aria e riuscire a mappare quanto più spazi possibili della città.